partiamo dunque la giunta comunale ha deliberato approvando il relativo progetto preliminare di procedere all'asfaltatura di ben nove strade della città di novara si tratta in alcuni casi di vie centrali mi riferisco per esempio a corso cavallotti al baluardo partigiani in altri casi di vie non centrali ma comunque essenziali come viale kennedy e corso trieste complessivamente l'investimento riguarda circa 500 mila euro dico circa perché questa è la base d'asta quindi è presumibile che in sede di gara ci siano offerte minori e quindi che si possano effettuare dei risparmi comunque la disponibilità che noi abbiamo previsto è di 500 mila euro i lavori presumibilmente cominceranno a partire dalla primavera perché il periodo invernale non ci consente di avviare in maniera tempestiva gli interventi e soprattutto perché vorremmo ridurre al minimo il disagio dei cittadini che ci rendiamo conto per qualche giorno dovranno sopportare dei tempi di attesa in più magari semafori oppure in prossimità dei cantieri ma sono opere assolutamente importanti che credo tutti quanti i cittadini di Novara comprenderanno nel corso delle riasfaltature di queste strade noi provvederemo anche a rendere accessibili per i diversamente abili marciapiedi e quindi creando degli appositi scivoli volete che vi dia precisamente l'elenco delle vie perché non le ho lette perché mi sembrava un po' rognoso però se volete ma io vi ho citato due vie che mi sono quelle più centrali però c'è corso io vi ho citato corso cavallotti ma poi c'è anche via marconi valguardo partigiani via giotto per ampe del boschetto via le kennedy tra piazza marti luther king e via patti piazza garibaldi che mi sembra importante che non ho citato corso trieste tra via bovio via vilde la rotonda di il l alamein ok